I premi Oscar Giuseppe Tornatore e Dante Ferretti, l'apertura con Flashdance e poi ancora un'icona della commedia nazionale come Carlo Verdone. Emergono prepotenti le succose anticipazioni del programma della 59esima edizione della Mostra del Cinema Internazionale di Pesaro che si terrà dal 17 al 24 giugno e che avrà anche tre film italiani in anteprima mondiale, darà spazio al cinema sperimentale argentino e a quello di due registe internazionali come la tedesca Milena Ghirke e l'anglopalestinese Rosalina Shashibi. Dopo Liliana Cavani e Mario Martone l'evento speciale sul cinema italiano dedicherà quest'anno la sua attenzione al premio Oscar Giuseppe Tornatore. Verranno dunque presentati tutti i suoi film tra cui Ennio, straordinario documento su Morricone e Nuovo Cinema Paradiso nella versione restaurata che sarà anche il film di chiusura del festival dopo che l'apertura sarà dedicata al film culto degli anni 80 Flashdance a 40 anni dall'uscita nelle sale. Altro grande protagonista sarà Dante Ferretti, scenografo premio Oscar che accompagnerà a Pesaro la presentazione della sua autobiografia. E poi ci sarà Carlo Verdone, raccontarà al pubblico la sua straordinaria carriera e presenterà Borotalco che lo scorso anno ha compiuto 40 anni e in cui per la prima volta interpreta un protagonista tutto tondo. Riflettori puntati anche su tre film italiani che saranno presentati in anteprima mondiale a Pesaro. Il documentario Bellezza Dio di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, Cocorico Tapes firmato da Francesco Tavella e Non credo in niente di Alessandro Marzullo. Nomi ed eventi a corredo del concorso internazionale del festival diretto da Pedro Armocida, aperto come sempre a tutti i formati e a tutti i registi, senza barriere d'età, durata o genere.